Emozione, accessibilità, made with love sono i tre punti di quello di Moretti Compact, un prodotto fatto con amore e accessibile a tutti, un prodotto che dà emozione e che si prende cura di voi. Quest'anno al salone presentiamo la zona notte ed è una linea che ha tanto carattere perché l'abbiamo rinventata nel modello Moretti Compact. Quindi l'abbiamo rivista creando un prodotto accessibile e con carattere perché ci distingue da tutto il restante del mercato. Versatilità è il focus della linea Kids Young Moretti Compact, un prodotto che si adatta a bambini di pochi anni, a ragazzi fino al periodo università e forse anche oltre. È un prodotto che si trasforma rispetto alle esigenze del ragazzo, quindi da un bambino piccolo a un bambino grande, la camera si trasforma rispetto alle sue esigenze. Multifunzione è il concetto Moretti Compact Re-Leaving, un prodotto che nasce come living ma si adatta a qualsiasi angolo della casa in cui si vuole un prodotto che nasce magari con un'esigenza e poi man mano si trasforma e può diventare qualcos'altro. Come spesso tutti abbiamo la necessità, le nostre case cambiano forma rispetto alle nostre esigenze. Prendersi cura è quello che Moretti Compact ritiene più importante in un prodotto. Noi creiamo i prodotti con amore e il prodotto in qualche modo si prende cura di noi. Avendo un prodotto sicuro dentro casa, qualsiasi cosa facciamo ci fa stare tranquilli, sia da un punto di vista di emissione, di qualità dell'aria, di tutto quello che ha bisogno di una casa per farci sentire protetti e sicuri. Noi creiamo i prodotti con amore e i prodotti con amore e i prodotti con amore e i prodotti con amore.